Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo sul mio villaggio di Clash of Clans e oggi vi voglio presentare il mio villaggio abbassiamo il volume che sono le 4 di mattina e voglio presentare il mio clan il mio clan è di livello 5 e siamo messi abbastanza bene e potete farvi vedere le mie app ovvero ho il Drago al 3 il resto come potete vedere il Barbaro al 6 e il massimo che sono arrivato è il 2080 per il momento i coglioni dai sono arricchettimento quelle cose lì che sennò rompono i coglioni e ci troviamo un po' proprio Cristo da derubare dobbiamo fare un attacco da 300.000 e 300.000 o anche 300 o 150 manco a morireci dentro e questo dovrei farlo soltanto per il nero ah e questo è svoltanto per il nero ci proviamo con difesa aerea come ci dà ecco e intanto vediamo se c'è qualcuno nel castello e difatti c'è la gente nel castello ci abbiamo provato su questo vabbè mi abbiamo un po' rotto le palle eccolo qua è da buttare giù dove c'è il castello clan eccolo qui non c'è qualcuno non c'è nessuno ottimo ok ok il barba lo fanno butta fine ok allora intanto buttiamo a pulire si ma che parvo non era buttato giù al ciochie del cazzo ok oh bella lì entriamo tutti dentro tutti dentro così preparo sto per preparare ma non ci usiamo l'abilità così almeno si recupera la vita ok e non lo cura non lo cura anche se crepa mi frega adesso beh il villaggio era una merda però vabbè ci siamo presi un po' di risorsini uuuu hanno fatto il botto ma dai ormai questo è finito perfetto vabbè anzi che ci altri vogliono trovare un cazzo è meglio così ora devo aspettare domani che esattamente alle 15 mi si sblocca la caserma e tra 21 minuti mi si sblocca un muratore che servirà appunto per fare il re barbaro e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un commento e un like e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao